Inter prima di Istanbul, la coppia che non ti aspetti. L'Inter farà la trasferta di Torino nell'ultimo impegno di campionato, le tappe di avvicinamento alla finalissima di Champions. Niente ritiro questa sera per l'Inter alla vigilia dell'ultimo match di campionato a Torino. Ritorno fissato domattina ad Appiano Gentile, prima dell'ultima veloce sgambata e della partenza per il capoluogo piemontese in vista dell'anticipo all'Olimpico Grande Torino contro la formazione di Juric. L'Inter farà tutto in giornata, come già successo nella semifinale d'andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium contro la Juventus. La testa è ovviamente rivolta alla finale di Istanbul con Manchester City dopo essersi qualificata in Champions League. Anche se Simone Inzaghi pensa a delle turnazioni ragionate per non far perdere ai suoi il ritmo partita. Inter, le mosse di Inzaghi per il Torino con vista Champions diverse le staffette in programma con qualche titolarissimo in campo dal primo minuto come Bastoni, Grosovic e Lautaro Martinez. Probabile che Inzaghi si affidi un po' a sorpresa alla Lula dal primo minuto, con Lukaku a far coppia con il Toro e Dzeko inizialmente in panchina. L'obiettivo del centravanti belga è chiaro, scalzare l'ex Roma e prendersi una maglia da titolare per la grande notte in terra turca. Partita che inoltre potrebbe fungere da trampolino per Big Rom per meritarsi la conferma anche nella prossima stagione. Probabile spezzone di partita per Skriniar, out invece Mkhitaryan e Correa, l'argentino a rischio anche per la finale di Champions. Tra poche ore l'Inter scenderà in campo con il nuovo sponsor Paramount+, che per le ultime due gare della stagione con Torino e soprattutto City verserà 10 milioni di euro nelle casse di Giang. La metà circa e il presidente Nerazzurro li ha promessi come premio alla squadra in caso di trionfo a Istanbul. Steven Giang partirà insieme a tutto il gruppo giovedì pomeriggio, mentre lunedì è previsto il Media Day al Suning Center con la conferenza di Inzaghi. Le dichiarazioni di alcuni giocatori e l'allenamento aperto alla stampa. La probabile formazione dell'Inter contro il Torino, 3-5-2, Andanovic, Darmian, Debris, Bastoni, Danfries, Gagliardini, Brozovic, Cialanoglu, Gosens, Lukaku, Lautaro Martinez.